Un popolo che si indigna è sempre un fatto positivo. Quando scende in piazza rinnova una intramontabile rappresentazione della democrazia. Eppure, la moltitudine che ha affollato le vie del centro storico di Sciacca l'altra sera per il funerale del carnevale sta suscitando interrogativi di tipo diverso. Sciacca è una città da sempre moderna ma al tempo stesso piuttosto indolente. Sovente la rassegnazione civile prevale su ogni altro sentimento e l'unica valvola di sfogo è il dali all'untore, da barro, da circolo, dove primeggia l'attacco al capri spiatorio, spesso l'autorità costituita, a cui attribuire la colpa di tutto quello che accade. Giovedì scorso Sciacca è apparsa tutt'altro che rassegnata. Ha protestato come non aveva mai fatto contro la soppressione del carnevale 2012. Un esempio sacrosanto di dissenso, intendiamoci. Un dissenso manifestato con la protesta della piazza che a gioco forza ha riaffermato l'attuale realtà che vede il cittadino sempre più lontano dalla politica, della folla che si fa gruppo, in antitesi con il potere che dimostra di non saper risolvere i problemi. Si è vista la Sciacca moderna, la città degna che vuole riappropriarsi dei propri valori, della sua tradizione, ma solo il carnevale riesce a smuovere davvero sentimenti di protesta e voglia di riscatto sociale? Domanda retorica alla quale la risposta non può che essere positiva e dire che siamo reduci da anni drammatici, in cui questo territorio ha perso tutto e altro ancora purtroppo si accinge a perdere. Da quanto si è appreso nei giorni scorsi Sciacca perderà perfino il reparto di ostetricia e i bambini saccensi saranno costretti ad andare a nascere ad Agrigento a Palermo. Un problema non certo di poco conto, eppure è un periodo, quello che stiamo vivendo, in cui ci sarebbe davvero bisogno di indignazione e di maggiore partecipazione popolare. E un'altra domanda sorge spontanea. Quante persone oggi, eccezione fatta per gli studenti che magari approfittano di un giorno di vacanza, si presenterebbero ad una manifestazione in favore della legalità e della lotta contro la mafia. È una città Sciacca che da anni rischia di vedersi sopprimere gli uffici giudiziari, eppure nessuno protesta tranne gli addetti lavori che peraltro rischiano di ritrovarsi addirittura additati dai soliti soloni, che sanno tutto, come portatori di interessi di parte. Corte di protesta in favore dell'acqua pubblica si sono visti ovunque, tranne chi a Sciacca, e quando qualcuno ha chiamato a raccolta le forze popolari per sollecitare la soluzione di un problema, non si è avuta la partecipazione sperata. Qualche anno fa ci fu uno sciopero per chiedere alla regione di salvare le terme. Furono numerosissimi gli spettatori sui marcepiedi a guardare addirittura e ridere i pochissimi manifestanti che sfilavano imbarazzati. E la manifestazione a sostegno del progetto di Roccoforte? Niente di trascendentale, soprattutto perché in piazza Scandaliato c'erano più politici e sindacalisti che cittadini comuni. È una città, quella di Sciacca, che ha disertato clamorosamente anche la manifestazione per invocare la riapertura del viadotto Can Salamone, ed è una città che ha sostanzialmente disertato il referendum del dicembre 2003, rinunciando ad essere protagonista, aggiungendo termi al toponimo Sciacca, non capendo che si è fatto un dispetto da sola. Si dirà, la gente era assegnata perché la classe politica non ha dato le risposte che ci si aspettava. C'è una parte di verità in questo, ma è anche vero che il cittadino non può più pensare di limitarsi a delegare agli altri le proprie decisioni, rinunciando ad esercitare la responsabilità individuale. Ed è bello, ma ci sia consentito al tempo stesso imbarazzante che migliaia e migliaia di persone abbiano deciso di scendere in piazza con tanta generosità per protestare contro la soppressione del Carnevale. Sciacca resta una città senza indignados, che dovrebbe però indignarsi per un elenco di problemi, a parte il Carnevale, che purtroppo rischia di farsi sempre più lungo.